Vabbè, ma dottor, ma come vi dovete addormentare, scusate? Cecilia, questa è la partita, eh, già siamo in ritardo, stiamo. Boh, andiamo e facciamo l'anestesia, tranquilli. Signor, due minuti, ti addormenti e non senti più niente. Ah, beh. Poi una mezz'oretta di tempo e tutto finito. Speriamo, certe volte. Vabbè, scusate, ma voi chirurghi, quando operate, perché mettete la mascherina? Beh... Signor, che se l'operazione non va male, diciamo, almeno non ci riconoscevi. E infatti mi dicevo, mi piace. Scevere, aiuto, aiuto! Ho il dritto di randarte.